A che punto siamo con la cabina di regia del Patto per la Puglia e soprattutto i progetti esecutivi per le strade dei Monti Dauni ci sono? La provincia di Foggia si sta impegnando ad approvare questi progetti esecutivi per quanto riguarda i Monti Dauni e stiamo in dirittura d'arrivo. Nei prossimi giorni convocherò anche un tavolo tecnico per definire la programmazione relativamente al finanziamento dei 24 milioni di euro che ci sono stati riconosciuti in uno degli ultimi provvedimenti adottati dal governo. Anche lì io credo si potrà dare una buona risposta e poi dovrebbero arrivare ulteriori risorse soprattutto quelle rinvenienze dalla legge di stabilità che ha destinato un capitolo ad hoc proprio per la manutenzione della viabilità provinciale. Quindi stiamo lavorando, finalmente qualche risorsa si incomincia a vedere per quanto riguarda i Monti Dauni i progetti esecutivi sono quasi pronti e credo che a breve riusciremo ad appaltare. Quali saranno più o meno i primi progetti? I primi progetti sono sicuramente quelle più disastrate, voglio dire non c'è una strada che merita maggiore attenzione rispetto all'altro visto che comunque abbiamo uno stato di conservazione della viabilità provinciale che è sicuramente precaria un po' dappertutto. Quindi non ci sono delle strade che godranno di canali di favore, partiranno bene o male quasi tutti insieme.